Tutti promossi. Il presidente Alberto Rota conferma in blocco la rosa dei quattro vicepresidenti Maurizio Croci, Giuseppe Colla, Claudio Bassanetti e Marco Libelli, loda lo spirito e il lavoro messo in campo dalla sua associazione e si avvia verso il suo secondo mandato alla guida di Confindustria Piacenza, associazione che guiderà anche per i prossimi due anni. Questo pomeriggio Rota, nella splendida cornice di Palazzo Farnese, ha illustrato al Consiglio gli indirizzi e gli obiettivi del prossimo biennio. Al secondo mandato puntiamo sostanzialmente sullo spirito su cui abbiamo fatto il primo, quindi infrastrutture locali, valorizzarle il più possibile, quindi dico non lasciamoci scappare il nuovo ospedale perché il nuovo ospedale è un'opportunità per questa città e perderlo significerebbe rallentare e tanto lo sviluppo del nostro territorio. Una necessità di una viabilità riorganizzata che abbiamo presentato l'anno scorso in assemblea e quindi e tutte le infrastrutture intorno si apriranno prima o poi le opportunità di utilizzare le aree militari. Terzo lo sviluppo delle start up, quindi la necessità e la possibilità di poterle supportare in modo che le nostre associazioni per quanto abbia competenza sia in grado di poterle aiutare, spronare. Terzo il marketing territoriale, abbiamo bisogno di aziende, abbiamo bisogno di occupare i nostri giovani e non farli andare via, quindi per forza di cose dobbiamo diventare attrattivi. L'investitura formale di Rota è attesa per giugno, ma nel frattempo il presidente lancia anche un appello alla politica piacentina alla vigilia delle elezioni. Quello che occorre è entusiasmo, secondo me, entusiasmo che mi auguro che i nuovi candidati sindaci, e vedo che hanno cominciato secondo me con un filo di ritardo, ma che certamente con grande entusiasmo mi auguro che portino, perché questo è di quello di cui abbiamo bisogno, e passione, soprattutto passione. Grazie a tutti.